Accoglienza, valorizzazione delle peculiarità territoriali, potenziale, attrattivo, sono le parole chiave degli eventi cofinanziati dalla Regione Puglia a Natale. Si tratta delle 43 iniziative finanziate dal bando per il co-branding selezionate su 59 proposte candidate per un totale di oltre 665.000 euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione. Gli eventi, selezionati su tutto il territorio regionale e in programma dal prossimo 6 dicembre al 6 gennaio del nuovo anno, riguardano la promozione dell'arte moderna e la valorizzazione della street art, i percorsi a contatto con la natura, il teatro e la musica, le degustazioni delle tipicità enogastronomiche e locali, i mercatini di Natale e tanto altro. Due, le attività che propongono anche all'estero sapori e tradizioni pugliesi, in particolare a Bangkok, in Thailandia e a Lussemburgo. Sì, oltre 40 progetti che ci serviranno a rendere ancora più attrattiva la destinazione Puglia, abbiamo deciso di finanziare, di contribuire nella realizzazione di progetti che ci sono arrivati da tutte le province pugliesi con lo scopo di rendere ancora più forte il nostro brand, di sostenere l'animazione territoriale in un periodo dell'anno che notoriamente non è così attrattivo per la nostra... Le proposte approvate da Puglia Promozione esprimono creatività e idee che daranno risonanza all'accoglienza pugliese sia dentro che fuori i confini regionali, in eventi come Puglia 00 Natale Circolare, mercatini natalizi tra Mattinata e Verona, e come The Blues Brothers Christmas Edition, rappresentazione teatrale itinerante tra Campania, Lazio, Toscana e Sardegna. Ma ci saranno anche Talos in luce e suoni d'artista dal 7 all'11 dicembre a Ruvo di Puglia, Natale a Trullolandia dal 16 al 18 dicembre ad Alberobello, Locus Muse dal 19 al 30 dicembre a Locorotondo, l'Epifania insieme il 5 e 6 gennaio a Putignano e la festa dell'olio nuovo ad Andria dal 6 all'8 dicembre. L'8, 12, 17 e 18 dicembre in ultimo un gran tour in bicicletta a cura di lega ambiente tra le province di Foggia e Bat, nei comuni del fiume Ofanto, promozione anche per il Carnevale a Natale di Putignano e Natale nelle grotte a Castellano. Più degli altri anni però dobbiamo sapere che i nostri limiti sono quelli e che il Natale non è il cuore della nostra stagione, abbiamo allungato la stagione maggio, giugno, settembre e ottobre. A Natale accogliamo con 43 eventi in co-branding tra i privati e Puglia promozione una terra vibrante, ci dimostriamo creativi e accogliamo i turisti che già stanno venendo per Natale, quindi un Natale importante, un Natale vibrante, un Natale creativo, un Natale con tanti eventi in co-branding tra Puglia promozione e i privati. L'avevamo detto che Natale e Capodanno sarebbero stati una fase estremamente importante di quest'anno che pure ci ha dato e ci sta dando soddisfazioni significative, lo stiamo analizzando come avevamo detto passo passo, abbiamo analizzato i dati a ottobre, adesso guarderemo a questa fine anno e se mi permettete direi che l'approccio al turismo in Puglia da parte dell'assessorato del Dipartimento è via mare, abbiamo fatto una misura importante che ci conferma le crociere in Puglia, via via aria, ieri l'aeroporto di Puglia ha annunciato un incremento del 20% delle connessioni Ryanair tra Puglia e il resto d'Europa e del mondo, via a terra, attraverso il co-branding che mette in fila una serie di attività estremamente rilevanti in cui i privati sono protagonisti.